Con questo bel panorama inizia la seconda parte di pulizia autunnali. La descrizione sarà facile e sbrigativa, ma non altrettanto sarà l'esecuzione. Ottobre si presta per il cambio stagionale, quindi spalancare gli armati e mano agli indumenti invernali, laddove è necessario rinfrescare o risciacquare. Archiviare l'estivo. Sistemati gli indumenti, arriva il turno delle coperte e dei piumoni, idem come sopra, rinfrescare o risciacquare se necessario. Uno sguardo ed una controllatina anche ai sacchi per piumoni, lenzuola pesanti tipo flanella e via dicendo. È bello condividere una coperta fresca e profumata. Arriviamo al traguardo con l'ultimo step. Letti e divani. Se sfoderabili, smontare e dare una bella rinfrescata, altrimenti procedere come di consueto. Per quanto riguarda invece i letti, importantissima e non deve mancare la pulizia dei materassi. D'altronde dovremo trascorrere tutto l'inverno. Alla prossima, ciao. Grazie a tutti.